Giuseppe Santovito è l'allenatore della prima squadra, intanto complimenti perché siete partiti con il piede giusto a suon di gol, 4 a 1 fuori casa. Sì, l'obiettivo era quello di partire subito a forte perché le ambizioni della società quest'anno sono importanti, così come lo erano lo scorso anno. Quindi c'è stata subito la risposta dei miei ragazzi su un campo difficile, quello di Monte d'Orisio che al di là del 4 a 1 ci ha fatto penare le fatidiche sette camicie. Quindi è stato un risultato importante, è arrivato con tanta caparbietà, con tanta voglia di ottenerlo e sono contento, faccio i complimenti ai miei ragazzi e sono stati veramente bravissimi. Prima lei parlava di ambizioni, sicuramente saprà che l'ambizione della società è quella di salire di categoria. Sì, l'obiettivo della società è quello di cercare di salire di categoria, di puntare ad arrivare il più in alto possibile per poterci giocare le primissime posizioni della classifica. Ovviamente sarà un compito difficile, sarà un compito arduo perché noi comunque nel bene o nel male siamo comunque una neopromossa, quindi siamo neofiti di questa categoria. È una società giovane che non ha mai calcato i campi di prima categoria, quindi ovviamente adesso bisogna un attimino entrare nell'ottica che le partite sono tutte difficili, sono tutte da affrontare. Ci sono squadre esperte come la Casolana, Valdisangro, Vasto, che sono squadre che calcano questi palcoscenici da anni e anni, quindi c'è un'esperienza diversa, c'è un'esperienza maturata negli anni che noi ovviamente non ancora abbiamo. Quindi adesso il difficile sarà quello comunque di calarci subito nella categoria per cercare di far bene, per cercare comunque di raggiungere l'obiettivo come abbiamo fatto lo scorso anno. Grazie.